... Rappresento l'azienda agricola Terredora di Paolo, società semplice agricola. Abbiamo la nostra sede in Monte Fusco, provincia di Avellino. Siamo viticoltori, siamo titolari di 185 ettari di vigne di proprietà da cui produciamo i nostri gioielli. Produciamo tutti i viti da vitigna autoctoni, quindi fiano di Avellino, greco di Tufo, Taurasi, Aglianico, Falanghina, Coda di Volpe e la denominazione d'origine Irpinia, nelle versioni rosato e quindi rosso, con il nome Il Principio, che è un vino importante, tra le tante cose premiato qui a Vidigno Italia con la medaglia d'argento insieme al nostro Fiano di Avellino, il Crew Terre di Dora che è il nostro cavallo di battaglia di casa, più importante. Altro prodotto che merita di essere ricordato e che qui hanno tranquillamente premiato con medaglia d'oro invece è stato il Crew del Greco di Tufo Terre degli Angeli, prodotto molto particolare che vogliamo definire innovativo perché è frutto di un lavoro di lunga ricerca realizzato dalla nostra azienda che nasce dalla selezione clonale delle uve greco, lavoro che è iniziato circa 25 anni fa e di cui noi siamo depositari di tutto questo studio e di questa lunga ricerca. Il Vigneto Terre degli Angeli è l'espressione dove oggi come oggi abbiamo presentato e premoltiplicato la selezione clonale realizzata in questi 25 anni. È un vino morbido, gentile, fruttato, elegante, con sentori che ricordano l'ananas, ricordano tranquillamente la pesca, l'albicocca ed è un vino che riusciamo a gustare tranquillamente con piatti di pesce, con fritture e lo possiamo gustare anche con frutti di mare. Per chi ama bocca piena è la cosa più bella perché dà piacevolezza e lunga intensità e lunga persistenza al palato. Cantina Federiciane Monteleone, provincia di Napoli, produciamo 5 prodotti, campi flegre e penisola sorrentina, una delle piccole eccellenze è il flegre, uno spumante di falanghina, vinificato e spumantizzato da noi, un metodo charmat lungo, 12 mesi affinamento sui lieviti, ottimo rapporto qual da prezzo, da provare. L'azienda Banfi come saprete ha il suo cuore pulsante in Toscana dove sono 2850 ettari a corpo unico e dove abbiamo 900 ettari coltivati a vigneto. Qua abbiamo portato una novità, cioè più di una, una novità è il Bolgheri Rosso dove abbiamo acquisito 4 ettari nella zona di Bolgheri e poi abbiamo la riserva di Poggia Le Mura che esce per la prima volta quest'anno, l'annata splendida, l'annata 2007. Il Poggia Le Mura, come magari avrete già sentito dire, è una selezione di tre cloni di Sangiovese. È venuto fuori questo prodotto dopo 20 anni di studi e sperimentazioni sul nostro territorio e sul Sangiovese. Il Poggia Le Mura